Alla vigilia del settimo anniversario del terremoto dell'Aquila, Marco Cassini, attore e regista terramano, presenta La notte non fa più paura, film sul terremoto dell'Emilia nato dall'esperienza tragica di un abruzzese e un emiliano. Il film è nato per strada con uno dei miei migliori amici, che è un attore straordinario, e lui è nato in Emilia e mi fa Marco ma com'è stato il terremoto dell'Aquila? Io gli ho raccontato di quello che ho vissuto, di quello che hanno vissuto i miei più cari amici. E lui mi ha detto delle cose sin troppo similari da non mettere insieme, per ricordare qualcosa. Inoltre, ti dico la verità, avevano già realizzato troppe cose sul terremoto dell'Aquila e non volevo essere speculativo. Invece tante cose del terremoto d'Emilia ancora non si sanno. Un terremoto che ha coinvolto lavoratori, imprenditori, anche studenti, gente comune, gente di famiglia. E questa è la risposta. Il mio obiettivo era quello di riuscire a ricordare una cosa del genere che ci ha coinvolto tutti, ma coinvolge anche a Genova, per altre calamità naturali, o l'Irpinia, se ci vai a pensare. L'obiettivo era quello, cioè di ricordare e di capire come si può superare un dramma del genere dentro al cuore una ferita così aperta. Ispirato a fatti realmente accaduti, La notte non fa più paura è il frutto di anni di lavoro e sacrifici di un giovane cast tecnico e artistico che nonostante le mille difficoltà non ha rinunciato a raccontare una storia di vita vera. Un film che ricorda un dramma, lo fa in maniera molto sobria, offre uno spunto positivo, cioè come superare la notte, che è metaforicamente il momento più buio della vita di una persona, la notte non fa più paura. Perché ci sono delle scene che ricordano tanto quello che è successo qui da noi e quello che è successo anche a Ferrara, a Mirabello, in tutti i posti che abbiamo girato. Venite a vederlo e poi ne parleremo insieme in sala.